Si gira, ciac! Amici, guardoni degli studi di Radio Bruno, siamo di nuovo pronti per mostrarvi una chicca, la FC Room, eccola qua, è la stanza dove gli speaker o presunti tali lavorano, forse lavorano. Cominciamo dalla scrivania di Barbara Pinotti, eccola qua, ritratta in tutto il suo splendore, con la gonnellina e con la faccia da Mickey Mouse topolina, guardate che meraviglia, ma passiamo alla scrivania di Roberto Trapani, un uomo che vive di Facebook ma soprattutto insegna gli altri a parlare, questa è la dimostrazione con la dizione e il dizionario, in realtà è analfabeta, e ora la scrivania di Laura De Vitis, guardate le letterine dei fans, eccolo qua, ciao sei la numero uno da cavallo selvaggio con la caramella, è lei, e andiamo alla scrivania di Clarissa Martinelli, guardate la piantina, quella gliel'ha regalata Raffaele Morelli, è una piantina che va coltivata e annaffiata, perché non sfiorisca, proprio come lei, e attenzione alle spalle di Clarissa, la scrivania di Enrico Gualdi, sembra ordinata, ma guardate, le due piantine che lo rappresentano, sono spelacchiate come lui, e infine la scrivania di me stesso, eccola!